Il Tai Chi Chuan stile Chen è un'affascinante arte marziale i cui principi affondano nella medicina tradizionale cinese e nella teoria degli opposti. Una mente calma, movimenti circolari fluidi, alternanza di movimenti lenti e veloci caratterizzano questa efficace arte marziale. Il Tai Chi Chuan stile Chen si avvale della respirazione addominale. Questo permette di rilassare la mente e nel contempo inalare una maggiore quantità di ossigeno fornendo più energia ai muscoli. Il Tai Chi Chuan stile L'equilibrio è un elemento molto importante nel Tai Chi Chuan stile Chen. Esso è intimamente in relazione con una mente calma e una postura correttamente bilanciata. Il Tai Chi Chuan stile Chen richiede una mente concentrata e una corretta esecuzione dei movimenti in accordo con i principi della medicina tradizionale cinese. Utilizzando l'intenzione durante la pratica l'energia benefica potrà essere condotta in qualsiasi parte del corpo. Nel Tai Chi Chuan stile Chen ogni movimento è generato dall'azione della vita, cintura dell'addome con benefici del flusso circolatorio, scioglimento delle articolazioni, muscoli più forti ed elastici. Nel Tai Chi Chuan stile 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 Nel Tai Chi Chuan stile